E' stato riproposto appunto Ciao Marziano, un suo film con il quale prima Pippo Franco ci ha svelato un po' di aneddoti divertenti Pierfrancesco Pingitore, eccolo Buonasera Ma io non ero preparato Io ho detto prima, spero che il pubblico si diverta a vedere Ciao Marziano, almeno quanto io mi sono divertito nel farlo Ma è difficile, e in effetti la parte forse più divertente del film è quella di fare, del film Eccolo Avere la consuetudine con tanti amici, attori, divertirsi, ridere, rendersi la mattina Masticarsi un po' le battute che abbiamo scritto Ecco, questo è il ricordo migliore